Si parte dall'alto, si scende verso il basso, si sbuoca il cassaforma con il cassaforma in maniera che loro sono appoggiati con il cassaforma sotto e scompiscono e poi scendono in basso. Per fare questa operazione sono stati piegati oltre mille pannellate di sangue, 400 metri di cavi luminosi, 400 pallone mila varie di luce e oltre 100 piantine, in un totale di 35 giorni di bambino. Il 24 gennaio noi chiudiamo qui, in due ore i bambini delle scuole elementari lo distruggeranno, questo è molto buono. Il tema di, per esempio, quest'anno era di Gerusalemme. Allora, perché Gerusalemme? Perché già allora, 2000 anni fa, Gerusalemme era noceria di tricoli, c'era un giorno di conflitti. Quindi, vedete qui, che adesso sono stati un'anti-aerola, il rumore e il pilato, a sicurizzare che il pilato non è chiamato niente. Prima c'erano, prima c'erano, prima c'erano, prima c'erano, prima c'erano, prima c'erano. Venendo avanti, il tema propone, diciamo, due palazzi dei mercanti. Sono i palazzi più 10 da realizzare perché sono quelli con differenti livelli, molto conosciuti tre, gli struttori Ungheri, hanno chiamato un prezato, è vero, per favore.